«Chi sono questi miserabili?» domandò il grande orco. «Nani! E questo qua?» disse uno di quelli che li avevano portati fin lì, dando uno strattone alla catena di Bilbo e facendolo cadere sulle ginocchia. «Li abbiamo trovati che si riparavano sul nostro portico anteriore!» «Cosa significa ciò?» disse il grande orco, rivolgendosi a Thorin. «Niente di buono, te lo assicuro. Spiavate gli affari privati del mio popolo!» «Non mi sorprenderei di scoprire che siete ladri, assassini e amici degli elfi, molto probabilmente!» «Avanti! Che cosa hai da dire?» «Thorin, il nano, al vostro servizio!» Egli replicò. Era semplicemente una maniera educata di rispondere «niente». «Non abbiamo nessuna idea delle cose che sospettate e immaginate. Ci siamo riparati dalla tempesta in quella che sembrava essere una grotta adatta e fuori uso. Niente era più lontano dai nostri pensieri che disturbare in qualsivoglia modo gli orchi». Il che era proprio vero. «Mh...» disse il grande orco. «Questo lo dici tu?» «Posso domandarti allora cosa facevate sulle montagne, da dove venite e dove andate?» «In effetti vorrei sapere tutto su di voi. Non che possa servirti al molto. Torin, scudo di quercia. Son già fin troppo della tua razza, ma di la verità. O vi organizzerò qualcosa che non vi piacerà affatto. Eravamo in viaggio per andare a trovare i nostri parenti, i nostri nipoti e nipotine, i nostri cugini di primo, secondo e terzo grado e gli altri discendenti dei nostri nonni. «Che vivono a est!» disse Torin molto scocciato, non sapendo bene cosa dire in un momento in cui ovviamente l'esatta verità sarebbe stata del tutto fuori luogo. «È un bugiardo!» «Oh, tremendissima!» dissero gli orchi che avevano portato i prigionieri. «Ehi, capo! Molti dei nostri sono stati abbattuti da un fulmine nella grotta. Quando abbiamo invitato questi esseri a venire giù e sono morti come sassi!» «E poi non ha voluto spiegare questa!» Gli tese la spada che Torin aveva cinto, la spada che proveniva dal covo dei troll. Il grande orco lanciò uno spaventoso urlo di rabbia quando la guardò e tutti i suoi soldati digrignarono i denti, batterono gli scudi e picchiarono i piedi per terra. Avevano riconosciuto immediatamente quella spada. Aveva ucciso centinaia di orchi ai suoi tempi, quando i bei elfi di Gondolin davano loro la caccia sulle colline o li combattevano sotto le loro mura. L'avevano chiamata Orcrist, la fan di orchi, ma gli orchi la chiamavano semplicemente Coltello. La odiavano e odiavano ancora di più chiunque la cingesse. «Assassini e amici degli elfi!» gridò il grande orco. «Scuorciateli! Picchiateli! Mordeteli! Sbranateli! Portateli via nelle caverne scure piene di serpenti! Non fategli più vedere la luce del sole!» Era così arrabbiato che saltò su dal suo sedile e si avventò su Torin con le fauci spalancate. Proprio in quel momento tutte le luci della caverna si spensero in un gran fuoco. Esplose in una colonna di fumo, bluastro e luminescente, che schizzò fino al soffitto e sparse bianche scintille strazianti su tutti gli orchi. Le grida e le urla inarticolate, il gracidare, l'ugiolare, il farfugliare, gli ulolati, i latrati e le maledizioni. Gli strilli e lo stridio che seguirono erano al di là di ogni possibile descrizione. Molte centinaia di gatti selvatici e lupi arrostiti vivi tutti insieme a fuoco lento non sarebbero stati niente in confronto. Le scintille procuravano ferite brucianti nella carne degli orchi e il fumo che ora ricadeva dal tetto rendeva l'aria così densa che persino i loro occhi non riuscivano a vedervi attraverso. Presto cominciarono a cadere uno sopra l'altro e a russolare ammucchiati sul pavimento mordendo, scalciando e dimenandosi come se fossero tutti impazziti. All'improvviso una spada sfolgorò di luce propria. Bilbo la vide infilarsi dritta nel grande orco mentre questi indugiava stordito nel pieno della sua collera. cadde morto e le sue guardie fuggirono davanti alla spada strellando nel buio. La spada tornò nel fodero e si sentì Presto! Seguitemi! Con voce fiera e tranquilla e prima che Bilbo potesse capire cosa era successo. Eccolo trottare di nuovo più che poteva ultimo della fila giù per passaggi scurissimi con le urla degli orchi che svanivano dietro di lui. Una pallida luce li guidava. Più svelti! Più svelti! Disse la voce. Non ci rimetteranno molto a riaccendere le torce. Mezzo minuto! Disse Dory che si trovava indietro vicino a Bilbo ed era un tipo a modo. Si caricò lo Hobbit a cavalcioni sulle spalle aiutandosi meglio che poteva con le mani legate e poi ripartirono di corsa con un canglore di catene e inciampando spesso dato che non potevano servirsi delle mani per tenersi in equilibrio. Si fermarono solo dopo un bel pezzo e a quel punto dovevano essere proprio nel cuore della montagna. Allora Gandalf accese il bastone magico perché naturalmente era Gandalf. Ma in quel momento avevano altro a cui pensare per domandargli come avesse fatto ad arrivare fin lì. Sfoderò di nuovo la spada e ancora essa brillò di luce propria. Ardeva di una collera che la faceva scintillare ogni volta che c'erano gli orchi nelle vicinanze. Adesso era vivida come una fiamma blu per la gioia che provava nell'uccidere il potente signore della caverna. Non ebbe nessuna difficoltà a recidere le catene degli orchi. Il nome della spada era Glandring la batti nemici. Ve ne ricordate? Gli orchi la chiamavano semplicemente Martello e se possibile la odiavano più di coltello. Anche Orchrist era stata salvata. Gandalf l'aveva portata con sé assieme all'altra spada strappandola a una delle guardie terrorizzate. Gandalf pensava proprio a tutto e anche se non poteva fare tutto poteva fare molto per gli amici che si trovassero alle strette. Ci siamo tutti? Domandò. E dopo aver restituito la spada a Thorin con un linchino? Vediamo. Uno ed è Thorin due tre quattro cinque sei sette otto dieci undici dove sono chili e fili? Eccoli qua dodici tredici ed ecco il signor Baggins quattordici bene bene poteva andare peggio anche se poteva andare molto meglio senza poni senza cibo senza sapere bene dove siamo e con orde di orchi furiosi alle calcagna su andiamo avanti andarono avanti Gandalf aveva proprio ragione in lontananza lungo il passaggio che avevano percorso cominciarono a udire rumori di orchi e grida orribili questo li spinse ad avanzare più veloci che mai e siccome il povero Bilbo non riusciva ad andare veloce neanche la metà di loro perché i nani sanno correre velocissimo quando vogliono credete a me fecero a turno a portarselo in spalla tuttavia gli orchi sono più veloci dei nani e quegli orchi conoscevano meglio la strada ed erano fuori di sé dalla rabbia così per quanto facessero i nani sentivano le grida e i grugniti farsi sempre più vicini mentre presto furono in grado di udire perfino il tonfo sordo dei piedi degli orchi tanti tantissimi piedi che parevano provenire proprio da dietro l'ultima curva potevano vedere alle loro spalle nella galleria che stavano percorrendo il bagliore delle torce rosse e cominciavano a sentirsi stanchi morti perché perché mai ho lasciato il mio buco hobbit disse il povero signor Baggins solbalzando su e giù sulla schiena di Bombur perché perché mai ho deciso di portare un povero piccolo hobbit in una caccia al tesoro disse il povero Bombur che era grasso e procedeva barcollando col sudore che gli colava sul naso per il caldo ed il terrore a quel punto Gandalf passò alla retroguardia e Thorin con lui sbucarono da una curva molto stretta dietro front gridò Gandalf sguaina la spada Thorin non c'era altro da fare agli orchi non piacque affatto con impeto superarono la curva urlando a pieni polmoni e trovarono fendi orchi e batti nemici che brillavano fredde e vivide proprio nei loro occhi attoniti quelli davanti lasciarono cadere le torce e lanciarono un urlo prima di essere uccisi quelli alle loro spalle urlarono ancora di più e balzarono indietro cozzando contro gli altri che stavano sopraggiungendo coltello e martello strillarono e presto furono tutti in preda alla confusione e la maggior parte di loro si affrettò a tornare da dove era venuta passò un bel po' di tempo prima che qualche orco si azzardasse a oltrepassare la curva nel frattempo i nani erano andati avanti percorrendo un lungo lunghissimo tratto nelle oscure gallerie del reame degli orchi quando questi se ne accorsero spensero le torce infilarono scarpe leggere e scelsero i loro corridoi più veloci dotati della vista più acuta e dell'udito più fino costoro si lanciarono in avanti rapidi come donnole al buio e poco più rumorosi dei pipistrelli ecco perché né Bilbo né i nani e neanche Gandalf li udirono arrivare e neppure li videro gli orchi invece che li inseguivano silenziosamente videro loro perché il bastone magico di Gandalf continuava ad emettere una luce fioca per aiutare i nani nella loro avanzata tutt'ad un tratto Dori che adesso era di nuovo in retroguardia venne afferrato nel buio alle spalle gridò e cadde e lo hobbit rotolò giù dalla schiena nella tenebra più fitta poi batte la testa su una roccia e perse i sensi